Benvenuti, siamo in barca, è mercoledì, siamo in compagnia chiaramente di Giotto e oggi parliamo ancora delle mura di peschiera. L'appuntamento scorso che abbiamo fatto insieme in barca, ci ha visto navigare dal bastione Cantarane verso il bastione Feltrin. Adesso siamo al bastione Feltrin. Anche qua vedete il saliente che è la convergenza di queste due cortine murarie che convergono appunto su questo saliente, il marmo rosso Verona, salgono, come vedete, e ad un certo punto sulla sommità cosa abbiamo? Abbiamo questo cerchio che praticamente, se si guarda attentamente, è una ghirlanda, sarebbe, che avvolge un'effigie marciana. Chiaramente quest'effigie oggi non si vede più perché, come tutte le altre effigie del Leone di San Marco che rappresentavano la Serenissima Repubblica di Venezia, furono distrutte con l'editto che emanò Napoleone dopo la caduta della Serenissima, dopo il trattato di Campofomio, era 1797, ma qua dentro, come vedete in questa foto, si può notare quello che viene chiamato un leone moica o un soldo. Quindi questo è effigie marciana. A destra e a sinistra, gli stemi dei provveditori che proprio commissionarono e seguirono i lavori della costruzione di questo bastione, che fu il primo ad essere eretto. Già altre volte, se guardate sul canale YouTube Tourism Pescherato, vedete altri filmati che parlano di questo bastione come di tanti altri. Per oggi, in questo percorso, vogliamo dare continuità. Quindi dal bastione Cantarane, navigando in senso orario, arriviamo proprio al bastione Feltrini, che vi avevo appena mostrato. Vedete che la particolarità di questo bastione, fondamentalmente, è la sua parte che è crollata. Ne abbiamo parlato tante volte. È proprio qua davanti a noi. Ma oggi ci saffermeremo, andando, navigando molto vicino alla sua base, di questo bastione, per cercare di darvi un po' più l'idea e la prospettiva dello spessore di queste mura, di questo sistema difensivo, che ha, diciamo, la forza di resistere a qualsiasi cosa, fondamentalmente. Perché, anche se progettato nel Cinquecento, è riuscito a resistere, come sappiamo, ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi con armi certamente moderne. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata, proprio sulla cortina Cantarane, su quei grossi solchi creati dai bombardamenti. Ecco che, in questo momento, come vedete, siamo proprio contro quello che resta del bastione Feltrini. E vedete la prospettiva, lo spessore di questo sistema murale, che entra all'interno di questo terrapieno. Chiaramente, dopo il crollo, adesso mi sposterò appena più avanti, dopo il crollo di questo bastione, si dovete provvedere anche a fissare le parti che erano crollate, con questa massicciata in cotto. Però, potete capire lo spessore di questo terrapieno, perché tutto quello che vedete, tutta questa bellissima scarpata terrazzata di terra, è il terrapieno, che riempie l'interno di tutti gli altri bastioni che vedete oggi, ancora integri, quindi circondati dalle mura, con i camminamenti sovrastanti che potete percorrere tranquillamente a piedi. Quindi è proprio l'occasione per vedere la reale profondità di questo sistema, che è veramente quasi indistruttibile, eccetto quando vengono fatti i lavori, come è successo nel 1935, di scavo, che senza saperlo erosero proprio qua sotto le palafitte in legno che sostengono la fortezza di Peschila, perché questa fortezza ha la sua base con un sistema palafitticolo inserito in profondità nel terreno, che ha creato una base statica su cui dopo edificare questo sistema fortificato. Quindi con questa piccola pillola vi salutiamo, vediamo appuntamento alla prossima puntata, sicuramente proseguiremo il nostro viaggio, arriveremo quindi al bastione Tognon, e là ci sono delle cose veramente interessanti da scoprire. Vi ricordo anche che a Peschila del Garda potete fare questo giro che stiamo facendo adesso, con visiti quotati in barca, che partono ogni 30 minuti da Piazzetta San Marco, in pieno centro storico. Vi potete sedere comodamente sulla barca e farvi trasportare la scoperta delle mura di Peschiera. E viva Peschiera e viva il Lago di Garda! Grazie a tutti! Grazie a tutti!